Ciao ragazzi, sono lì qui la Yandere e oggi andiamo a scuola perché io due l'avevo levato un po' di tempo fa perché devo portarvi nuovi giochi e ve lo riparto, siete contenti? Aspettate, però vi voglio prendere la musica perché non voglio parlare, sapete? Ho la voce bassa, quindi non parliamo. Allora, scegliamo la musica. Scegliamo la musica, sì, perché è bella. Ma stai me lo faccio di Wondercraft perché è nuovo. Difficile scrivere così, eh? Allora, non c'è bisogno di un'altra cosa. Aspettate. Scusate. 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 Allora, non c'è bisogno. Allora. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti